Prefettura, veicoli sequestrati per violazione al codice della strada, iniziativa per lo sbaltimento. E' stato avviato il nuovo sistema di affidamento al custode acquirente dei veicoli sequestrati, fermati o confiscati per violazione del codice della strada, essenzio degli articoli 213, 214 e 214 bis. Il nuovo sistema è diretto a conseguire le seguenti finalità. Contenimento degli ordini finanziari a carico dell'amministrazione pubblica per le spese di custodia dei veicoli, semplificazione delle procedure di smaltimento dei veicoli sequestrati, allo scopo di eliminare i pericoli per la salute e la pubblica incolumità, riconducibile al degrado ambientale per la presenza nelle depositiere per un lungo periodo di tempo di veicoli in pessime condizioni. Il decreto numero 20.770 è stato pubblicato contenente la ricognizione effettuata in collaborazione con l'Agenzia del Demanio di 559 mezzi sequestrati per violazione al codice della strada fino alla data del 15 marzo 2021 e ancora giacenti presso la depositeria Angela Sammito, con sede a Pacchino, in via Indipendenza. Gli interessati possono consultare il sito della Prefettura di Siracusa www.prefettura.it.gli utenti potranno consultare l'elenco facendo parte integrante del decreto in cui sono stati indicati i dati identificativi dei veicoli, targo o telaio e le generalità dei proprietari, nonché ogni altra utile informazione. Entro 30 giorni dalla sua indicata data di pubblicazione, i proprietari aventi diritto potranno rivolgere alla Prefettura di Siracusa apposite stanza di dissequestro o restituzione dei mezzi dimostrando l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge, i vi compreso il pagamento delle spese di custodia alla ditta Angela Sammito. Decorso il suddetto termine, i veicoli dei quali non sarà richiesta la restituzione saranno acquisiti dal Demanio per la alienazione o la arrottamazione. Infine, con separato elenco, sono stati individuati gli obbligati al pagamento delle spese di custodia per veicoli già alienati o rottamati allo scopo di consentire agli interessati l'estinzione dell'obbligazione ed evitare così il recupero coattivo qualora tali spese venissero anticipate dalla Amministrazione.